Il 23 febbraio alle 17 in Piazza Duomo ci sarà la cerimonia di apertura dei mondiali studenteschi di sci che porteranno all'Aquila oltre 500 studenti con relativi accompagnatori, 17 delegazioni provenienti da tutto il mondo per una manifestazione che ha tirato l'attenzione dell'Italia intera diventando un modello di organizzazione. Le gare interesseranno la stazione scistica di Campo Felice il 24 e il 25 febbraio con la giornata del 26 dedicata all'amicizia dei popoli. Una bella cosa per l'Aquila, per le scuole abruzzesi e credo anche per l'intero paese, per l'Italia. L'Aquila è stata individuata, l'Abruzzo è stato individuato, quale sede di svolgimento di questi mondiali quindi questo per noi è parte fonte di onore, motivo di onore, anche motivo di visibilità non solo a livello ovviamente nazionale ma a livello internazionale. Dalla regione Abruzzo arrivano 110.000 euro per questa manifestazione ha ricordato l'assessore regionale dello sport Silvio Paolucci riconoscendo dunque il valore dell'iniziativa. Anima è principale organizzatore, colui che più di tutti gli altri ci ha creduto a portare all'Aquila questi mondiali di sci, il professore Antonello Passacantando che ricorda come quest'anno la torcia sarà portata dagli atleti speciali dello Special Olympics. Questo è un sistema organizzativo fatto da docenti, da alunni, un ringraziamento particolare al mondo della scuola dove tutti quanti siamo volontari oltre a fare gli insegnanti nei vari ruoli. Stiamo lavorando da circa un anno nelle nostre ore di ritaglio sia i docenti che gli alunni per portare al combimento questo... io devo dire che la macchina organizzativa fino ad oggi è stata perfetta, abbiamo ancora qualche piccola sfumatura ma in questi ultimi giorni riusciremo chiaramente a colmarla e per cercare di dare il massimo di noi stessi.